Un agguato ed un'esecuzione programmata, quello che ha visto l'uccisione ieri mattina alle 7.30 sulla provinciale che collega Barra Franca Denna ad un commerciante di auto usate, Filippo Giuseppe Marchi, 48 anni, sposato e padre di due figlie, titolare di un salone d'auto. Un commando di tre uomini armati di pistole e fucile carico a pallettoni lo hanno soppreso all'interno della sua campagna mentre stava lavando la sua auto e lo hanno freddato con diversi colpi, poi sono fuggiti via con la macchina con cui erano arrivati. Sono state la moglie e una delle due figlie a sentire i colpi uscire nel balcone dell'abitazione che si trova davanti alla loro campagna ad accorgersi dell'uccisione del loro congiunto e quindi a dare l'allarma ai carabinieri della locale stazione. Sul posto si è recato il dottor Roberto Condorelli, sostituto procuratore distrettuale antimafia di Caltanissetta, esperto nelle vicende di mafia della provincia di Enne e coordinatore delle indagini. Un omicidio preparato nei minimi particolari con un'attenta tempistica, il tutto durato appena un paio di minuti ed il commando è riuscito a dileguarsi senza lasciare traccia a significare che l'esecuzione è stata effettuata da gente esperta. Allo stato attuale le indagini si sono aperte con l'interrogatorio dei familiari nella speranza che la moglie e la figlia possano dare agli investigatori degli indizi importanti per identificare gli autori di questo delitto che potrebbe essere definito omicidio di mafia. Filippo Giuseppe Marchi fu processato per l'omicidio di Asaresi, avvenuto nel 2001 ma poi fu assolto ed anche risarcito per la ingiusta detenzione. Il 21 luglio 1995 era sfuggito miracolosamente ad un attentato.